Siamo arrivati. qui cosa c'è di buono? Chef, tutto a posto? Sì, tutto a posto perché c'è la birra, se no non era tutto a posto, grazie Merto. E il menù della casa? Il menù della casa, allora abbiamo pancetta, salsiccia, patatine con gli aromi del ketchup e la maionese, ovviamente a chi piace, poi abbiamo tanta voglia di divertirci e di conseguenza di collaborare per il nostro paese, per San Pietro a posto l'anno prossimo e sono sicuro che la volontà nostra sarà premiata in una bellissima festa che accontenteremo tutti quanti, bambini e anziani compresi, tutti e tutte le fasce dell'età e saremo orgogliosi di fare tutto questo. Grazie, sono felicissimo di essere parte di questa leva, grazie Merto, sei buono. Grazie a lei Vice Presidente, la leva viva Terramba. Leva 1970, viva Terramba, abbiamo le prove qua, abbiamo le prove. il nostro birraio, il meglio deve sempre venire, c'è la bella birraio, grazie a collaboratore con il nostro zucchero filatista, il zucchero filatista, il nostro autista, e poi abbiamo Helmut, il nostro barman, il barman improvvisato. Andate un po', birra di qualità, è bellissimo, è di qualità, è di qualità, è di prima il nostro barman, è di prima, non di secondo, ce ne è tutta lo stesso. Eccoci qua, eccoci qua, ahhh... Beh Mirto, Mirto, ecco qua, ha ancora la tetta, bella tetta... Non vieni? Allora come siamo messi qua? Adesso, vai! Attenta a non sbagliare con la salciccia.